Milioni di persone sono morte in suo nome, i vostri cieli erano pieni di kamikaze, atrocità commesse ogni giorno, mentre il suo impero si espandeva, invadendo, conquistando e decimando. Voi avete bruciato due delle nostre città, trasformando i nostri figli in ombre sui nostri muri. Siamo entrambi colpevoli. Sì, abbiamo conquistato dei territori in Cina, ma la Gran Bretagna e il Portogallo non ci hanno forse preceduto? Sì, abbiamo preso Singapore e la Malesia, ma le abbiamo prese dagli inglesi. Non abbiamo certo preso le Filippine dai filippini, ma dagli americani, che a loro volta le avevano rubate agli spagnoli. Se è un crimine internazionale prendere dei territori con la forza, chi ha condannato i leader di Gran Bretagna, Francia, Olanda e degli Stati Uniti? Nessuno. E quale sarebbe la differenza col Giappone? Nessuna. Vede, generale, stiamo semplicemente seguendo il vostro ottimo esempio. Grazie.